Weekend all'insegna del buon vino e della cultura enologica torna il 24 e 25 maggio il tradizionale appuntamento con cantina aperte. L'iniziativa lanciata dal Movimento Turismo del Vino oltre 20 anni fa è un'occasione imperdibile per scoprire i segreti della lavorazione delle uve, assaggiare, ma anche acquistare le migliori etichette direttamente dai produttori. Sul sito www.movimentoturismovino.it tutti i dettagli regione per regione.